Buongiorno, buon inizio di weekend, l'ultimo weekend in fascia gialla, quindi a partire dalla mezzanotte di oggi e dunque sostanzialmente la domani, visto che c'è comunque il copil fuoco dalle 22 alle 5 del mattino, saremo in arancione, ci saranno nuove norme da rispettare per quanto riguarda la prevenzione del rischio di espansione del Covid-19. Cominciamo però questa rassegna stampa ancora una volta con le immagini che arrivano dal territorio, abbiamo un po' di luce in più rispetto ai giorni scorsi e qui siamo a Ravascletto dove si può apprezzare sicuramente il cielo pulito, libero dalle nubi e tanta neve, quindi c'è sicuramente tanta neve sulle nostre montagne, davvero un peccato che prima della metà di febbraio non si possa ipotizzare il ritorno sulle piste di sci per gli appassionati. Qui siamo invece a Derto Casso e come potete vedere si possono notare anche le stelle, si vedono ancora le stelle in cielo, il paese è illuminato, il cielo è limpido, dunque oggi si annuncia una bella giornata di sole così come ci conferma anche questa immagine che arriva da Gorizia, spostiamoci a Grado dunque sulla costa, in questo caso un po' di nuve all'orizzonte ma non destano preoccupazione e poi Trieste, il capoluogo qui che si sta svegliando con le prime luci dell'alba. Andiamo a farci confermare da Tribi Meteo le previsioni per oggi. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Tribi Meteo per la giornata di sabato che sarà l'insegna del sole, ampia e schiarita in tutte le regioni di Nordeste quindi anche in Friuli Venezia Giulia però attenzione il freddo sarà pungente con valori davvero bassini sia di notte che di giorno. Controlliamo partendo da Pordenone e Udine dove le temperature minime scenderanno di gran lunga al di sotto dello zero in città quindi nelle zone di campagna e poi ancora più in montagna, freddo ancora più accentuato e massimi non oltre i 4-5 gradi quindi davvero sabato freddino nonostante la presenza del sole. Anche su Gorizia e Trieste temperature davvero contenute, anche qui il tempo resta sì bello però ci sarà bisogno di coprirsi, tra l'altro nel Golfo di Trieste vi segnala ancora prechio vento, tenderà ad attenuarsi ma si farà ancora sentire. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Tribi Meteo. Andiamo a dare un'occhiata intanto all'autostrada, vediamo se ci sono avvisi particolari di cui tener conto, poi faremo il punto sulle vaccinazioni effettuate nel nostro paese, daremo un'occhiata anche alle ultime notizie alle prime del mattino, quelle che vengono pubblicate dai siti internet. Qui siamo sugli eventi di traffico sulla A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Bivio A4, allacciamento chiuso al Bivio A4-A23 in immissione verso Trieste a causa di lavori in corso. Questo dunque è uno degli avvisi di traffico da tenere presente per la giornata di oggi e per il weekend. Qui ancora un evento di traffico che riguarda invece la A4 Torino-Trieste in direzione del capoluogo a causa di un veicolo in panne in barriera Trieste-Lisert c'è un ralentamento quindi bisogna fare attenzione, più che ralentamento a quest'ora problemi di code non ce ne sono ma bisogna forse proprio per questo fare ancora maggiore attenzione. Andiamo a vedere più avanti se ci sono altre segnalazioni, sembra che sia tutto a posto. Allora qui sulla A28 Portoguaro-Conegliano ancora qualche avviso relativo a lavori in corso e soprattutto in questo caso a causa del lavoro in corso ci sono anche delle interruzioni di erogazione di carburante in questo caso per veicoli a GPL la erogazione di carburante è chiusa sulla A28 Portoguaro-Conegliano in direzione Bivio A4. Vediamo le webcam, andiamo a dare un'occhiata alle webcam che arrivano da Infoviaggiando di Autovie Venete, le webcam che solitamente vi mostriamo e che ci permettono di farvi vedere com'è la situazione del traffico. Qui siamo sul Bivio A423 in direzione Milano come potete vedere la situazione è del tutto tranquilla, non c'è traffico a quest'ora e sempre così sono le 7.03 nelle immagini che sono arrivate dunque poco fa. Andiamo a vedere le altre, qui siamo sulla barriera del Lisert dove nei pressi della barriera abbiamo avuto anche la segnalazione di un veicolo in panne ma non ci sembra essere in questo momento una situazione né di pericolo né di problematiche relative alla viabilità. Questa è la barriera del Lisert e andiamo anche a chiudere con l'ultima webcam di oggi quella di Gonars in direzione Milano. C'è un po' di traffico, un traffico del tutto normale per l'ora in cui siamo 7.03. Questa è l'ultima immagine, l'ultima sequenza che è arrivata dalle webcam di Info Viaggiando. Andiamo sul sito del Ministero della Salute per mostrarvi il dato importante, anche una soglia psicologica importante. Il primo milione di italiani ha ricevuto il vaccino, in questo caso della Pfizer, poi ci sarà anche quello di Moderna che è arrivato e dovrà essere somministrato e quindi si spera che prima possibile possa arrivare anche quello di AstraZeneca, quello della nostra produzione, produzione anglo-italiana. Poi ce n'è ancora un altro, tutto italiano, Reitera, che sta lavorando per produrre il vaccino. Un milione e 39.366 le persone vaccinate in Italia. Questo è il totale delle vaccinazioni effettuate. Come sempre diamo un'occhiata anche al quadro completo, regione per regione, per verificare le nostre regioni, come si stanno comportando. Il fluido Venezia Giulia è al 69.4 di vaccinazione effettuate, 25.903. Andiamo a vedere il Veneto che ne ha fatte sicuramente di più. 83.5, 97.650 le vaccinazioni completate dalla regione. A noi l'Imitrofa che condivide con il fluido Venezia Giulia, con tante altre regioni in Italia in questo momento, anche la condizione di fascia arancione a partire, il Veneto già lo è, lo è già da qualche giorno, la nostra regione lo sarà a partire dalla mezzanotte di oggi, quindi da domenica. Andiamo su Lanza, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora che riguardano i vari scenari sia di Covid che di instabilità politica. Renzi annuncia l'astenzione, questo se vogliamo è un colpo di scena, ma se vogliamo anche prevedibile, visto quello che sta succedendo. Conte chiude mai più con Italia Viva, quindi Renzi vorrebbe fare un passo indietro. Con l'astenzione si abbasserebbe il numero dei responsabili costruttori da andare a ricercare, ma Clemente Mastella che sta lavorando su questa ipotesi ha già fatto sapere a Conte che non gradirebbe brutti scherzi, cioè il peso dei costruttori e dei responsabili che si andranno comunque a mettere insieme, in ogni caso, anche se il governo non dovesse cadere, dovrà essere uguale se non superiore a quello dei parlamentari di Italia Viva che dovessero fare marcia indietro, quindi al movimento di Renzi che sembra, dopo aver minacciato la linea dura, e cioè andiamo al Parlamento perché Conte ha sbagliato i conti e non ha i voti per mantenersi in vita, per mantenere in vita il governo, a questo punto Renzi, a quanto pare, potrebbe fare marcia indietro, astenersi, chiedere l'astenzione ai suoi parlamentari e dunque permettere a Conte di salvarsi in maniera più agevole per poi rientrare in gioco. Ma Conte è stato chiaro, mai più con Italia Viva, che è stato definito un movimento politico inaffidabile, il leader Renzi inaffidabile da un po' tutti i partiti, soprattutto 5 Stelle e Partito Democratico, che sostengono Giuseppe Conte. Vediamo se c'è qualche ultimora. L'OMS che parla di migrazione che è stata ridotta a causa della pandemia di quasi il 30%, ma propriamente si parla di questo, alle 6.29 l'Anza batte un'altra notizia, caromana, di 4.500 migranti in marcia verso gli Stati Uniti. E poi a mezzanotte, poco dopo la mezzanotte, la notizia di un omicidio che si è verificato all'Ascoli Piceno, dove un uomo è stato ucciso a coltellate. Uno sguardo anche al sito del TG con 24. Eccolo che arriva, il sito diretto da Paolo Liguori con le ultime notizie, ecco qui, allora vediamo l'ultimora delle 6.50, in Florida incitava risposta armata contro i sostenitori di Trump, è stato arrestato. Ma la notizia invece che preoccupa è quella che viene pubblicata e che vedremo anche sui giornali. Arcuri annuncia che la Pfizer consegnerà il 29% di dosi in meno, l'azienda chiarisce, dal 25 gennaio sarà tutto regolare, quota un milione, conti l'Italia è prima in Unione Europea, nel rapporto tra i vaccini ricevuti e quelli somministrati. Questo sicuramente è un buon dato, ma bisogna fare sicuramente di più, meglio, e affrettare la vaccinazione, arrivare presto alla vaccinazione di massa. Ci vorranno diversi mesi, l'importante sarà proteggere intanto le categorie più esposte. Andiamo a vedere adesso invece i giornali, le prime pagine dei quotidiani, come dicevo tanta politica sicuramente, ma il tutto è legato alla grande emergenza della pandemia Covid-19 per provare a prevenire ed evitare che il contagio schizzi alle stelle come è avvenuto negli ultimi giorni, soprattutto nella nostra regione. Qui siamo sul Corriere della Sera, che apre con il titolo Zone Rosse, proteste e ricorsi. L'Italia torna divisa in tre colori, la Lombardia si oppone, punizione immeritata, la prendono come una punizione quelle regioni che hanno avuto il declassamento, chiamiamolo così, a zona rossa, cioè a una zona dove si può fare davvero ben poco, dove si parla quasi di lockdown generalizzato, ma non è una questione di punizione immeritata o meritata, i numeri sono quelli e ci sono dei parametri che sono stati identificati e in base a quei parametri si decide in quale fascia una regione entra. Ora Italia Viva apre, ma c'è il no di Partito Democratico e 5 Stelle, Conte lavora a un nuovo gruppo centrista per sbarazzarsi definitivamente di Italia Viva e del suo leader Matteo Renzi. Qui siamo sulla stampa, l'Unione Europea che parla di lockdown inevitabili, 12 regioni in arancione, questo è il quadro della nostra nazione, la Lombardia è rossa, l'ira di Fontana, decisione politica, faremo ricorso, intervista alla commissaria europea per quanto riguarda la situazione dei lockdown, la Pfizer riduce le consegne, ma ha fatto sapere però di essere sicuramente in grado al 25 gennaio di ripartire con la produzione in numero sufficiente a garantire le consegne necessarie a tutti i paesi. Cinzia, la milionesima vaccinata, virus alle spalle, dice ed è avvenuta questa milionesima vaccinazione al Mauriziano di Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano apre con la campagna acquisti, quindi il Parlamento che vede senatori e deputati passare da una parte all'altra per garantire l'appoggio, soprattutto quelli del gruppo misto, che dovranno essere, saranno loro l'ago della bilancia. Italia Viva ha detto che si asterrà dal voto di fiducia, che andrà a chiedere conti alle camere lunedì e martedì, martedì al Senato sarà il giorno della verità, e in quel caso con l'astenzione sarà necessario raccattare meno responsabili costruttori rispetto a se Italia Viva avesse garantito il voto anziché astenersi. La campagna acquisti, il Fatto Quotidiano la definisce così, campagna acquisti, gli SMS leghisti ai 5 Stelle, mercato delle vacche, Borghi promette buoni ruoli, Renzi disperato, tifa per Salvini a Conte, ruba tre senatori. Poi andiamo a vedere qui a sinistra, balla dei giornaloni, il recovery plan migliorato da Italia Viva. Falso, ecco perché Italia Viva si vanta di aver migliorato con il suo intervento il recovery plan, che è il documento che verrà presentato alla Unione Europea per cedere ai fondi, ai 209 miliardi del recovery fund. Italia Viva sostiene di averlo migliorato grazie alla sua azione che poi ha portato in contrasto, dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri, in contrasto con il governo Conte, ha portato alle dimissioni del Ministro e del partito fondato da Matteo Renzi. Qui siamo sul foglio, vediamo in taglio centrale la maggioranza della riconciliazione, un'alternativa necessaria, il pallottoliere del Senato, poi l'eliti con Renzi, c'è anche il cavaliere di mezzo e quindi è sicuramente un momento molto particolare che appassiona i appassionati di politica, di politichese e come ricordava proprio ieri il foglio, vogliamo sottolineare di nuovo come questa situazione abbia fatto passare un po' in secondo piano il Covid, però il Covid è tornato di nuovo in primo piano con l'attribuzione dei colori alle regioni e con le polemiche per le chiusure, soprattutto la Lombardia che si è vista attribuire la fascia rossa e ha annunciato un ricorso, l'ha detto il governatore di quella regione Fontana. La prossima campagna per l'Europa parte dal Nord-Reno-Vestfaglia, la regione da cui verrà il successore della Merkel, la Merkel che ha annunciato di non candidarsi, di chiudere con la vita politica alla scadenza dell'attuale mandato. la cancelliera non si ricandiderà più. Siamo sulle pagine del Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino, Stop Pfizer e allarme vaccini, ritardi di un mese nelle consegne. Palù dice che con AstraZeneca si potrà arrivare però a coprire il 65% degli italiani. In aggiunta ai vaccini di Pfizer e Moderna arriverà anche quello di AstraZeneca, come dicevamo, dicevamo che è stato in pratica già il via libera dall'Unione Europea, quindi adesso potrà essere prodotto e diffuso anche in Italia. Ricordiamo che c'è poi il vaccino italiano di Reitera che è in fase di studio ancora, è ancora nelle fasi di ricerca e di studio per essere poi portato all'approvazione delle agenzie del farmaco ed essere distribuito e somministrato nel nostro paese ed evidentemente a chi vorrà acquistarlo anche all'estero. Conte in crisi, i responsabili costano troppo perché c'è un costo. Quando si chiede ad un parlamentare di un'altra forza politica o di un gruppo misto di passare dalla propria parte bisogna pagare un prezzo, un prezzo che naturalmente è un prezzo politico. Al Premier mancano nove voti, i costruttori chiedono due ministeri alla testa, al vertice di questo gruppo dei costruttori, pur non essendo però in Parlamento, c'è Clemente Mastella, sindaco di Benevento che ricorderete abbiamo ospitato più volte nelle nostre trasmissioni negli speciali del Tg, si è messo in testa di creare questo gruppo e dice noi non siamo fessi, non siamo i polli di Renzi, se vi diamo una mano vogliamo due ministeri, ecco questo vogliono i responsabili, due ministeri per garantire l'appoggio al governo Conte e dunque andare alle dimissioni di Conte ma ad un altro incarico con la formazione di un nuovo governo con ministeri da assegnare ai responsabili costruttori che nel frattempo avranno garantito a Conte la sopravvivenza. Vedremo dopo la parte locale del gazzettino quando sfoglieremo anche le pagine interne. Adesso andiamo su Repubblica, soccorso bianco per Conte, numeri in Senato ancora incerti, si tratta per allargare la maggioranza agli ultimi democristiani Udc, spinte dal mondo cattolico, diversi esponenti di Italia Viva tentati dalla fuga, Renzi dichiara pronti a discutere senza veti, dunque Renzi fa un passo indietro ma Palazzo Chigi chiude, strade diverse, vedremo se manterrà il punto Conte e dirà stop, non voglio l'aiuto di Italia Viva piuttosto vado al voto, formo un gruppo mio, vado al voto e mi ricandido oppure chiedo agli altri, appunto ai costruttori, ai responsabili di completare l'opera e mi accordo con loro oppure se farà un passo indietro e tenderà la mano a Renzi. Italia Viva dice Conte deve fare il primo passo ma Conte ha dichiarato che non vuol più saperne di Italia Viva e con Conte anche i partiti che attualmente lo sostengono senza se e senza ma, e cioè i 5 Stelle e il Partito Democratico. Allarme vaccini, la Pfizer taglia le consegne del 30% e intanto la Lombardia si ribella alla chiusura. Poi le dichiarazioni del Cardinale Bassetti che è stato molto male, colpito dal Covid-19 in maniera particolarmente forte, ho visto la morte ma usciremo da questa palude. Da Repubblica ci spostiamo sul manifesto il quotidiano comunista che apre con la foto e il titolo Mai dire Maie. Andiamo a vedere nel dettaglio anche l'occhiello. Il gruppo del Maie apre le porte ai costruttori che però scarseggiano. Italia Viva prova a rientrare in partita e Zingaretti ricorda a Conte che serve una ripartenza, possibile una fiducia grazie all'astenzione dei Renziani. il Premier deciso ad andare avanti comunque sotto la testata Istituto Superiore di Sanità dopo le feste e contagi in risalita. Regioni a tre colori, vaccini, Pfizer, da lunedì in Italia il 29% di fiale in meno. Dischia dunque di subire uno stop, un rallentamento la campagna vaccinale. Però ricordiamoci che c'è sicuramente una scorciatoia per evitare lo stop, andare certo ad intaccare le scorte perché è previsto che un 30% dei vaccini che vengono consegnati rimanga come scorta. Si potrebbero andare intanto ad intaccare quelle scorte e poi andarle a ripristinare con l'arrivo di quel 30% circa di consegne in meno che la Pfizer ha annunciato per questo mese di gennaio, annunciando però subire dopo che dal 25 gennaio tutto riprenderà nella norma. La Pfizer ha parlato di ottimizzazione della produzione, di uno stop, un rallentamento che serve proprio a rendere poi migliore la produzione e a produrre più vaccini possibili da consegnare in tutto il mondo, in Europa e anche nel nostro paese. Questa è la pagina del manifesto. Andiamo su Libero dove scrivono i giornalisti e il direttore Senaldi vinceranno i peggiori gli opportunisti in soccorso del governo. Fino a martedì i parlamentari si dedicheranno al loro hobby preferito, il salto della quaglia. Scontato che Giuseppe troverà costruttori, si tratta solo sul prezzo, per avere il loro voto 5 Stelle e PD in pressing sui senatori dell'Udc. Ripensamenti fra i renziani, quindi tra astenuti e qualcuno che addirittura potrebbe fare il salto della quaglia come lo definisce Libero, un altro salto della quaglia perché ricordiamo che chi fa parte del gruppo di Teraviva un salto della quaglia lo ha già fatto staccandosi dal centro-sinistra formato inizialmente da partito democratico e da altre piccole forze di quell'area e formando il gruppo Italia Viva. Quindi un piccolo salto della quaglia è già stato fatto adesso farebbero un salto all'indietro della quaglia tornando all'ovile e garantendo anche se non direttamente aderendo di nuovo ai partiti che hanno lasciato ma garantendo a Conte la sopravvivenza e dunque Italia Viva che è stata la forza politica che ha provocato la crisi ma prima aveva anche dato il via al governo Conte Bis adesso rischia di essere di nuovo l'ago della bilancia a favore di Conte che però non vuole avere a che fare con Renzi e con Italia Viva e quindi cerca soluzioni alternative per poter fare a meno di Italia Viva e di questa soluzione di questo salto della quaglia all'indietro di alcuni dissociati dalle posizioni di Matteo Renzi e in generale da Renzi e dal suo partito Mastella va in appoggio a Conte incassa una bella sommetta arrivano fondi per la sua Benevento che caso puntini sospensivi grande stratega della politica nazionale Mastella ha ritiratosi al ruolo locale di amministratore della sua città Benevento la moglie Sandra Leonardo però occupa un posto nel gruppo misto in Senato e attraverso quindi Sandra Leonardo ma direttamente anche Mastella con la sua influenza la sua abile capacità di tessere tele e strategie sta mettendo insieme il gruppo dei responsabili e dei costruttori per salvare Conte ma chiede due ministeri come abbiamo visto su un altro giornale che abbiamo sfogliato questa mattina Conte usa ristoria e fisco per raccattare senatori è invece il titolo della verità la crisi sulla pelle del paese il Consiglio dei Ministri non vara il decreto per erogare i soldi agli esercizi chiusi e rinvia 50 milioni di cartelli fiscali di appena 15 giorni in un modo per prendere tempo e dare una giustificazione ai traditori che dovrebbero tenerlo in piedi i renziani hanno preso paura e il bullo medita la retromarcia su Roma Mattarella cosa dice c'è solo il voto all'ok agli scilipoti da c'è solo il voto all'ok agli scilipoti quelle strane veline filtrate dal colle e cioè Mattarella viene tra virgolette accusato con tutto il rispetto del caso visto che si tratta del Presidente della Repubblica di essere passato da c'è solo il voto in caso di crisi e dunque scioglimento delle camere e ritorno alle urne per tutti noi italiani per formare un nuovo Parlamento all'ok agli scilipoti e cioè a quel trasformismo che porta al salto della quaglia la compravendita di senatori e deputati per formare le maggioranze che servono a sostenere il governo quelle strane veline filtrate dal colle cioè i messaggi che sono passati tra Mattarella Conte e i leader politici per provare a dare una sistemata a questa situazione in un momento molto difficile in cui tutto questo sarebbe francamente da evitare e se ne sarebbe fatto volentieri a meno Arcuri giallo sui certificati delle mascherine la finanza negli uffici del commissario a caccia di due plichi il braccio destro Fabrocini dice appena arrivati ma dalla fornitura sono passati cinque mesi gli atti di incarico di Palazzo Chigi a casa del mediatore sudamericano poi da Lombardia e Bolzano sono rosse i governatori però si ribellano l'Unione Europea con la von der Leyen che vediamo qui in fotografia il vaccino scarseggia ma l'Unione Europea vuole imporre il patentino quindi è chiaro che il patentino è sicuramente uno strumento importante ma bisogna anche mettere nelle condizioni le persone di ottenere il patentino e cioè di vaccinarsi di accedere alla vaccinazione se si istituisce oggi un patentino per la vaccinazione il sottoscritto e tanti altri della mia categoria non potranno ottenere il patentino perché non possono avere ancora accesso alla vaccinazione quindi è chiaro il messaggio che ha dato la verità è corretto ok al patentino ma se non ci sono i vaccini di che patentino parliamo parliamone quando ci sarà il numero sufficiente di vaccini da poter garantire a tutti con l'accesso volontario di vaccinarsi proteggersi e proteggere anche chi sta vicino proteggere la collettività dal covid-19 chiudiamo con il giornale e poi andiamo a vedere solo 24 ore prima della parte locale della nostra rassegna ma qui siamo ancora su giornali generalisti costruttori di ricatti crisi di governo e di nervi nasce il gruppo Maia Italia 23 per salvare Conte ma a quota 161 al Senato ne mancano 10 ultima giravolta Italia Viva si astiene Giuseppi chiude le porte con Renzi strade ormai chiuse da Rousseau a Evolta Gabbana l'imbarazzo del movimento così finisce la democrazia del movimento 5 stelle perché anche in questo caso insomma lo stesso Grillo che ha parlato di accordi troviamo un'unità di intenti con gli altri partiti alla fine ha fatto un po' perdere quello che è il senso e l'identità del movimento 5 stelle così come l'abbiamo conosciuto quando è nato è diventato un movimento politico un partito a tutti gli effetti con le trattative le strategie le correnti e tutto ciò che comporta un partito essere un partito politico un movimento politico a tutti gli effetti come è diventato il movimento 5 stelle andiamo a vedere adesso il sole 24 ore il quotidiano economico finanziario più importante del nostro paese con l'apertura che è dedicata al recovery plan le parti sociali vanno all'attacco serve un piano di sviluppo scrive Fabio Tamburini non interventi a pioggia e poi non basta elencare i bisogni scrive Giovanni Tria che è stato anche ministro non basta elencare i bisogni bisogna andare al di là di quelli che sono i bisogni del momento per provare a guardare avanti e impegnare questi fondi in maniera corretta evitare di commettere errori perché commettere errori significa rimanere indietro dal momento che non arriveranno altri soldi oltre a questi 209 miliardi che poi bisognerà anche restituire in parte in parte no ma in parte bisognerà anche restituire e saranno un debito un fardello sulla schiena di tutti noi dei nostri figli e speriamo no anche dei nostri nipoti andando più avanti con le generazioni bisogna evitare di sprecare di gestire male i soldi che arriveranno dal recovery fund attraverso il recovery plan che è stato approvato dal consiglio dei ministri dovrà passare anche in Parlamento e ne scopriremo poi sempre di più su questo piano i cui dettagli però sono stati già forniti e i contorni sono già ben delineati ma non se ne sta parlando tanto perché non se ne sta parlando perché è più divertente parlare della crisi politica che attanaglia il governo Conte, Renzi Mastella Mattarella e chi più ne mette in questo momento stanno oscurando tutto il resto speriamo che si arrivi presto ma entro martedì avremo sicuramente una risposta a questo alla definizione della crisi e che si vada avanti poi spediti per il bene del paese lotta contro il covid sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista anche economico e parleremo nella giornata di oggi anche dell'iniziativa Io Apro che non ha avuto un grandissimo successo ha avuto un grandissimo successo mediatico nei giorni precedenti ma arrivati al punto ieri alla fine almeno nelle nostre zone Veneto Friuli Venezia Giulia non c'è stata un'adesione massiccia c'è stata qualche adesione simbolica qualcuno effettivamente è rimasto aperto c'è stata qualche multa per esempio a Vò ma lo vedremo tra poco con i giornali locali a Vò dove si era registrato il caso numero 1 in Italia è arrivata la chiusura di un locale con una multa perché il bar simbolo dove peraltro si ritiene che possa essersi infettato aver contratto il virus il primo contagiato è stato aperto dal suo titolare è rimasto aperto è stato chiuso dalle autorità ha subito la multa e subirà anche evidentemente una chiusura più prolungata che però è un provvedimento che serve a poco visto che in Veneto c'è la zona arancione e comunque quell'esercizio non avrebbe potuto continuare a lavorare in ogni caso andiamo sui giornali locali allora partiamo proprio dal gazzettino per approfondire questi temi la prima pagina l'abbiamo già in parte vista per quanto riguarda la parte nazionale ecco qui la protesta riapre il bar di Vò il bar dove fu registrato il primo contagio della covid a Vò e Uganeo è stato multato il titolare all'interno c'erano anche alcuni avventori che sono stati semplicemente identificati quindi non c'è stata per loro non è scattata per loro la sanzione perché erano presenti all'interno della locanda al sole camere e ristobbare che è rimasto aperto a Vò e Uganeo per protesta ma non ha avuto un grande successo questa protesta diciamo abbastanza chiaramente andiamo avanti vediamo il gazzettino che si occupa della crisi politica di cui abbiamo già detto molte cose scorriamo velocemente le pagine con il PD che striglia Conte cambio di passo ma lui ho i numeri quindi anche il PD comincia in qualche modo a dare segnali di insofferenza Premier ferma 152 voti i nuovi a noi due ministeri questo è quello che abbiamo visto anche su altri giornali Mastella siamo responsabili non fessi e qui il quadro della situazione fra chi va verso Conte tra cui Sandra Leonardo Mastella la vedete qui che è la moglie di Clemente Mastella poi ci sono gli indecisi tra cui Riccardo Nencini di Italia Viva il senatore Nencini che prova a ricucire lo strappo tra il suo partito Matteo Renzi Conte e dunque il governo per fare un passo indietro e ritrovare la tranquillità gli indisponibili sono 12 e in questo gruppo bisogna andare a trovare gli altri numeri per arrivare al numero che serve per ottenere la fiducia ma con l'astenzione di Italia Viva probabile al voto di fiducia di inizio settimana potrebbero servire meno indisponibili e dunque potrebbero servire meno responsabili e costruttori per garantire a Conte di rimanere in piedi con il suo governo di rimanere in piedi con un governo diverso naturalmente perché poi i costruttori e i responsabili vogliono dei ministeri bisogna formare un nuovo governo probabilmente con un maxirimpasto visto che anche il partito democratico dice bisogna cambiare passo e fa capire che forse qualcosa va cambiato andiamo a vedere ancora avanti qui sempre per la scommessa di Conte dalle acri al sindacato alla rete della lista Conte a caccia dei moderati e poi sfogliamo ancora il gazzettino per arrivare alle pagine locali e intanto alla lotta del coronavirus un milione di vaccinati il dato che vi abbiamo mostrato anche noi all'inizio dal sito del Ministero della Salute qui c'è anche un importante cronoprogramma delle vaccinazioni per chi si fa tante domande ma quando toccherà a noi essere vaccinati qui c'è una risposta di massima che speriamo possa essere diversa e cioè accorciata nei tempi soprattutto per quanto riguarda la fascia di colore giallo perché? perché qui si parla di categorie prioritarie persone in servizi essenziali personale scolastico forse dell'ordine persone di 60-80 anni che sono già vicine ad una fascia quella di 80 sicura ad una fascia di alto rischio dalle conseguenze di un contagio e dallo sviluppo della malattia di covid-19 e poi nelle eventuali aree focolaio in questa fascia qui la fascia più critica già iniziata la vaccinazione si concluderà entro febbraio a quanto pare e poi questa fascia qui dovrebbe partire la vaccinazione nei mesi di marzo aprile e maggio in alcune regioni visto che si sta andando abbastanza spediti avanti se ci sarà disponibilità di vaccini si potrà procedere prima quindi scalare qualche giorno qualche settimana per arrivare prima possibile all'immunità di greggio il tutto dovrebbe chiudersi entro l'estate ad agosto con altre dosi opzionate dall'Italia per un totale di 193 milioni 200 mila dosi che servono a garantire la prima e la seconda dose per cui ne servono due ma a quanto pare per tutti ne servirà almeno una doppia somministrazione questo è quello che è previsto per i prossimi mesi fino ad agosto ci sono molti dubbi sul fatto che si possa arrivare all'immunità di greggio entro la fine di quest'anno tanto meno entro il mese di agosto al ritmo di vaccinazioni che si sta tenendo in questi giorni per colpa un po' della disorganizzazione un po' anche del fatto che mancano effettivamente i vaccini ma mancano anche medici e infermieri per somministrare in maniera corretta e pur sempre un farmaco va somministrato in sicurezza servono professionisti medici infermieri e quindi bisogna reperire anche queste figure per dare un impulso un'accelerata trovare anche delle modalità diverse quando sarà possibile non conservare il vaccino per forza a meno 80 gradi e mi riferisco dunque al vaccino di Moderna quello di AstraZeneca che possono essere conservati a temperature molto meno rigide in frigoriferi che possono essere tranquillamente nella disponibilità di una farmacia o dello studio di un medico di base per poter avviare una campagna di vaccinazione di massa anche attraverso la medicina di base attraverso le farmacie dove potersi recare tranquillamente e farsi somministrare il vaccino continuiamo con il gazzettino per andare a vedere questa dei colori l'abbiamo già vista ecco qui allora non adeguiamoci dice Zaia il Veneto resta arancione ma le curve sono in calo non adagiamoci su questo risultato perché altrimenti rischiamo di commettere un grave errore il bar di Vori apre per protesta ma subito viene multato e chiuso alla locanda al sole frequentata dalla prima vittima del covid si presentano i carabinieri sono stati identificati 20 clienti solidarietà al titolare solo l'inizio si rischia la fame decine di locali aperti a Treviso poche adesioni a Venezia a Treviso qualche adesione in più a Venezia poca roba a Cortina resta aperto l'hotel Cristallo ma qui non si tratta di una violazione aspettando i mondiali di sci andiamo adesso a vedere la pagina che si occupa del Friuli vediamo qual è l'apertura l'apertura è sui divieti in regione arancione il Friuli Venezia Giulia inserito nella lista delle regioni a rischio elevato come ha spiegato il presidente dell'istituto superiore di sanità peraltro Friulano Brusaferro bisogna puntare a ridurre l'incidenza diminuendo il numero di contagi ancora alta la pressione sugli ospedali siamo al 39% di occupazione dei posti letto di intensiva da malati covid che vuol dire superare di 9 punti percentuali il limite massimo indicato come livello di allerta cioè il 30% e siamo al 53% di occupazione di posti letto da malati covid negli altri reparti ospedalieri dove il limite era stato indicato nel 40% prima di far scattare la soglia di allarme dunque 53% contro 40% per i posti letto nei reparti chiamiamoli così ordinari 39% anziché 30% che è già un limite da evitare di raggiungere nelle terapie intensive questi sono i numeri che insieme al rapporto contagi ogni 100.000 abitanti schizzato alle stelle nella settimana fra il 4 e il 10 di gennaio ha prodotto per la regione Friuli Venezia Giulia il passaggio dalla zona gialla a quella arancione ma siamo in buona compagnia perché ci sono tante regioni in questa condizione e addirittura Lombardia e Trentino e la provincia di Bolzano che sono diventate rosse qui andiamo a vedere sulla prima del gazzettino anche della scuola scuola a febbraio bocciata l'ordinanza perde al TAR la nostra regione il TAR accoglie la sospensiva cancella il documento oggi nuovo provvedimento ma è difficile che i ragazzi possano tornare comunque in classe prima della fine di questo mese il TAR rimanda al presidente l'ordinanza firmata la annulla rimanda a scuola in presenza agli studenti accolto il ricorso la sentenza non ha effetto immediato dunque la regione è pronta al contattacco e già oggi sarà firmata una nuova ordinanza che confermerà di sospendere la didattica a distanza di la didattica in presenza sino al 31 gennaio inclusa quindi un po' di pasticci amministrativi l'udinese riscatto contro la Samp oggi è giorno di partita si scende in campo a Genova contro la Sampa alle 20.45 andiamo a leggere adesso un attimo le pagine del messaggero Veneto per fare il punto della situazione su Udine e su Pordenone studenti in classe il TAR riapre le scuole superiori il messaggero apre proprio con questa notizia che abbiamo dato anche noi ieri sera nell'anteprima in TV del Tg delle 22 e 30 sospesa l'ordinanza regionale dopo il ricorso di un gruppo di genitori lo sconcerto di Federica seguite le indicazioni del comitato scientifico considerando anche che il governo ha dato la possibilità di poter decidere che le regioni potessero decidere di applicare dei provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dal governo e dai DPCM quindi la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio rispetto al ritorno in classe dall'11 gennaio che peraltro è avvenuto in poche regioni perché in tante altre hanno fatto come la nostra rinviando il problema chiamiamolo così almeno al mese di febbraio era un provvedimento restrittivo che è stato bocciato ad essere l'altare che ha dato la sospensiva non è andato nel merito non è entrato nel merito ma Federica emetterà oggi evidentemente un'altra ordinanza in ogni caso i nostri ragazzi delle scuole superiori non andranno in classe prima del mese di febbraio questo lo possiamo dare per certo la prima pagina di Udine andiamo a vedere quella di Pordenone se il titolo è diverso se si punta ancora su questo e cioè sull'ordinanza bloccata dall'altare è proprio così anche se c'è la fotonotizia invece che si occupa dei divieti di zona gialla domani arancione Pordenone sfuma la ribellione dei bar come detto non c'è stata una grande adesione al movimento io apro 15 gennaio dalle nostre parti davvero pochissimi esercizi hanno aderito a questa iniziativa pagine sportive rimaniamo sul messaggero per andare a vedere l'apertura sull'Udinese oggi parte un trittico da brivido con la Sampdoria bisogna badare al Soto poi arriverà mercoledì l'Atalanta per il recupero della gara saltata il 6 dicembre per Diluvio e poi il sabato successivo sabato prossimo arriva alla Dacia Arena l'Inter per un trittico che è effettivamente un trittico da brivido noi speriamo che l'Udinese sappia trovare le motivazioni per far bene andiamo adesso sul gazzettino sulle pagine sportive del quotidiano che dedica molto spazio approfondito nei dettagli all'Udinese quotidianamente questa la pagina dedicata all'apertura di sport è dedicata all'Udinese evitato sbagliare la crisi è in agguato i bianconeri dovranno tornare da Genova con almeno un pari o un risultato utile per ritrovare fiducia in vista delle prossime sfide a casa d'Inghe con Atalanta ed Inter andiamo a vedere qui in alto anche il gazzettino ci ricorda che la partita verrà seguita come sempre da Massimo Campazzo e i suoi ospiti dalle 19.45 con la partecipazione del giornalista opinionista esperto di mercato Paolo Bargigia queste le probabili formazioni che potremo poi vedere confermate o meno questa sera Musso in porta Becao Bonifazi Samir in difesa Struger Larsen Segler gli esterni De Paul Larsen e Mandragora a centrocampo Pereira dietro a Lasagna conferma del 3-5-1-1 con in questo caso il ritorno di Segler titolare a sinistra e Struger che riprenderà posto a destra al posto di Modina che aveva giocato dall'inizio contro il Napoli questa è la situazione per quanto riguarda le pagine di sport del Gazzettino adesso andiamo a vedere il quadro completo della giornata di Serie A che è iniziata ieri con il derby tra Lazio e Roma che ha visto a Lazio battere 3-0 gli avversari quindi il primo derby di questa stagione si conclude con il successo della Lazio per 3-0 le altre partite della giornata Bologna Verona Torino Spezia poi domani Sandorio Udinese Napoli Fiorentina Crotone Benevento Sassuolo Parma Atalanta Genoa Inter Juventus e infine lunedì Cagliari Milan la classifica diamo un'occhiata alla classifica per vedere anche qual è la posizione dell'Udinese imprimercela bene in testa quota 16 punti con una partita in meno c'è necessità di andare a caccia di risultato positivo a Genova in caso di vittoria si accorcerebbe anche il divario proprio con l'avversario di oggi che è a quota 20 alla diciottesima giornata quindi in perfetta linea con la quota dei 40 punti che servono per ottenere la salvezza l'Udinese è chiamata dunque ad uno scatto d'orgoglio e in queste prossime tre partite mettere insieme un po' di punti per recuperare quelli dilapidati nelle precedenti giornate andiamo adesso a vedere invece le pagine dei quotidiani sportivi nazionali partendo intanto dalla Gazzetta che dedica sempre una pagina all'Udinese ogni giorno ed oggi è dedicata alle dichiarazioni di Luca Gotti ieri nell'intervista rilasciata in esclusiva al nostro TG News 24 delle 16 la formula di Gotti rabbia agonistica e cura dei dettagli il tecnico ricarica la squadra conferma il 3511 e dice voglio risposte missione udinese è il titolo della pagina della Gazzetta adesso vediamo sempre per quanto riguarda la Gazzetta la prima pagina Loro a San Siro Ronaldo e Platini domani Inter Juve il fenomeno e il Ruà tornano in campo giocano per la Gazzetta la partita che viene definita il derby di Italia che dà importanti risvolti in chiave primato in chiave scudetto con il Milano che viaggia molto bene ma con l'Inter che è attaccata e la Juventus che ha rimontato un ritardo iniziale Lazio derby boom immobile doppio Luis Alberto a rivederci Roma citando anche le note di una celebre canzone andiamo sul tutto sport Pirlo Conte la vera storia esclusivo un rapporto di stima e affetto ma l'attuale tecnico nera azzurro aveva seri dubbi sull'arrivo del regista a Torino quel cambio al veleno nel corso di un inter Juve ecco qui proprio la foto di quel momento quando litigarono Conte e Pirlo Conte sostitui Pirlo che non l'ha prese evidentemente bene andiamo sul Corriere dello Sport Sinfonia Laziale il sigillo di Immobile Luis Alberto sul derby Roma Travolta 3 a 0 partire senza storia all'Olimpico lo spagnolo Mattature con una doppietta Morata l'anti-Inter mi piace farti gol e qui vediamo anche la festa della Lazio in campo dopo la partita peccato che queste partite si disputino queste e in generale tutte le altre senza il pubblico sugli spalti a festeggiare in questo caso avrebbero festeggiato i tifossi della Lazio tra la disperazione di quelli della Roma ma è questa la disperazione che vorremmo vedere per sconfitte sportive e non per le problematiche che stiamo affrontando di Covid-19 tra chi si ammala chi purtroppo perde la vita e il dolore dei cari e di tutte le persone vicine e chi in questo momento sta soffrendo anche per le gravi condizioni economiche in cui versa il paese chiudiamo con uno sguardo ai programmi di oggi vediamo qual è il quadro della nostra programmazione come sempre i TG sette giorni su sette alle 10 alle 12 alle 16 non c'è perché alle 14 e 25 abbiamo la diretta della primavera che torna in campo Udinese contro Verona live con il nostro commento la telecronaca in esclusiva e poi ancora TG in diretta alle 19 alle 19.45 spazio a studio e stadio con Massimo Campazzo che conduce la trasmissione la quattro ore di diretta con i suoi ospiti e con la partecipazione in collegamento da Milano di Paolo Bargigia dunque appuntamenti più importanti oggi primavera che torna in campo in esclusiva sul nostro canale dalle 14.25 e poi Sampdoria Udinese da seguire dalle 19.45 con l'ampio prepartito a cura di Massimo Campazzo per quanto riguarda studio e stadio commenti l'appuntamento sarà invece domani alle ore 21.30 è tutto per questa nostra rassegna stampa primo appuntamento di informazione della giornata del weekend ci vediamo alle 10 in diretta sempre sul nostro canale Grazie a tutti